bene ragazzi sono ben wolfess e sono tornati con fifa 18 il nostro wolfess football club questa è l'ultima partita che dovremmo essere costretti a giocare con i nabbi ed è anche la nostra prima partita in divisione 5 la nuova divisione che abbiamo conquistato con le unghie con i denti durante il scorso video c'è solo un piccolo problema che questo ragazzo già lo vedo veramente agguerrito ma veramente agguerrito e noi siamo appunto con i nabbi e questo è male ragazzi ora non ho grossissime aspettative per quanto riguarda questo match però faremo del nostro meglio ragazzuoli e ci infiliamo inaspettatamente qua c'erano infilati inaspettatamente guarda un po montolivo chi sei tu ci recupera tanti di quei padroni che mamma mia occhio qui il vero problema è che ha degli uomini particolarmente forti e superiori ai nostri in tutto praticamente in tutto qui ce lo beviamo mamma mia che verdi qui che verdi signori che attenzione verdi per dire dopato peccato più il tiro un numero qui il tiro il tiro da fuori di verdi mamma mia che chirurgo che chirurgo ragazzi non mi aspettavo potesse entrare o meglio un minimo di aspettativa un minimo di aspettativa ce l'avevo ma ragazzi che bomba chirurgica boom baby attenzione qui attenzione qui riusciamo incredibilmente a mantenere il possesso del pallone ma che tiro brutto molto vivo molto vivo al ventinovesimo zitto zitto io non pensavo potessi mantenere il possesso del pallone prestato com'era ci porta sul 2 a 0 incredibile ragazzi incredibile magari questi nabbi alla fine perderanno però si stanno impegnando qui facciamo un ottimo scambio per determinare attenzione lo vediamo il tiro la parata il secondo tiro fuori che peccato attenzione si addormenta qui si addormenta si addormenta niente da fare oggi maggiorini non c'è oggi maggiorini non è solito maggiorini sarà stanco poraccio si è addormentato tantissimo qui peccato che poi si era risvegliato ragazzi occasione lo vediamo attenzione che brutto intervento c'è stato fantastico dal punto di vista dell'efficacia ma è stato bruttissimo a vedersi gli ha fatto proprio male ragazzi gli ha fatto proprio male attenzione pericolo qui riusciamo a fare un ottimo 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 intervento difensivo mamma mia che intervento difensivo che abbiamo fatto e attenzione affondiamo solo per un istante temo solo per un istante infatti bene signori inizia la ripresa con due novità ha inserito sala e william questo significa che di contropiede ci può far malissimo ragazzi è inizia subito e inizia subito ad attaccarci cerchiamo di fare una partita attenta anche perché noi non abbiamo bisogno in realtà di velocizzare il tutto a mamma mia qua che sono sti falli che sono questi falli però abbiamo visto lo abbiamo visto grande rizzato non sappiamo che fare se non darla così attenzione non ci giriamo potevamo fargli molto male invece no e invece no purtroppo attenzione che ha conquistato un calcio d'angolo sul nostro regalo incredibile abbiamo semplicemente retropassata male tra i difensori e ha rimparlato sempre su uno dei nostri difensori quindi cerchiamo di non subire gol in questa occasione perché sarebbe un gol bruttissimo da subire riusciamo a venircene fuori incredibilmente aggiungere io non riusciamo a fargli male però siamo riusciti ad evitare una brutta 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 situazione perché sapete benissimo che noi sul calcio in angolo non ci comportiamo bene il problema è che ragazzo adesso con l'inserimento dei nuovi giocatori ecco è pericolosissimo e con ozil si è portato su due a uno purtroppo qui si è inserito veramente veramente bene abbiamo provato una scivolata disperata ma purtroppo non è andata bene e qui ragazzi riesce a portarsi su due a uno e si avvicina eh mi raccomando non pensiamo che la partita sia finita perché il ragazzo ha gli uomini per farci male oh un tunnel abbiamo visto un tunnel l'abbiamo visto tutti eh abbiamo visto un tunnel e l'abbiamo visto tutti attenzione montolivo montolivo sessantasettesimo dice no non ci sta e ci porta su tre a uno doppietta per lui io sono senza parole sono senza parole ragazzi perché non credevo qui ha resistito benissimo non credevo che montolivo sarebbe stato così importante in questa squadra mamma mia attenzione qui attenzione qui stop 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 gli diciamo di no anche a lui diciamo di no e quella scivolata non la dovevi fare quella scivolata non la dovevi fare noi non dovevamo fare questo passaggio ma tu non dovevi fare quella scivolata è brutta la nostra brutta 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 bruttissimo il nostro intervento e sarà entra e segna al settantesimo lo riporta su tre a due qui abbiamo sbagliato completamente noi completamente tutta colpa nostra ragazzi è tutta colpa nostra attenzione pericolo eh ozil ragazzi ve l'ho detto agli uomini per farci male purtroppo riesce a riprenderci con un bellissimo tiro da fuori di mesut ozil ma ragazzi quando hai certi uomini in campo è naturale che se concedi qualcosa ci fa male guardate qua subito pem e pem marchetti non ha potuto nulla e direi che marchetti è bello reattivo eh marchetti è un signor portiere secondo me però purtroppo eh qua stiamo sbagliando alla grandissima proprio eh alla grandissima stiamo toppando qua per fortuna anche lui qualche regalino l'ha fatto diciamo le cose come stanno qualche regalino l'ha fatto sterling è stanchissimo meno male che lui ha fatto una scivolata che poteva evitarsi la scivolata che poteva evitarsi sei fit uh altro regalo altro regalo altro regalo altro regalo un sacco di regali un sacco di regali non ne approfittiamo ragazzi si era messo i vestiti di babbo natale ma purtroppo noi non abbiamo voluto regali non abbiamo voluti baselli baselli che cosa fai ti sei scordato di tirare baselli ti sei scordato di tirare e occhio messo a contropiede perché lui ripeta sempre gli uomini per farci malissimo guardate guardate fa un po quello che vuole fa un po quello che gli pare fa l'abbiamo visto l'abbiamo visto l'abbiamo visto e non riusciamo a servirlo l'avevamo visto ragazzi che peccato che peccato e abbiamo un montolivo praticamente a pezzi praticamente a pezzi montolivo è calcio d'angolo adesso un calcio d'angolo che vedo male 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 vedo 86esimo minuto un calcio d'angolo che vedo di un mare che mamma mia la butta nel mezzo attenzione marchetti c'è tienila un attimo archetti perché qua squadra è tutta quanta indietro e tutta quanta indietro come potete vedere però si è aperto un barco che non riusciamo mai nella vita a raggiungere peccato era un buon barco con un giocatore da piedi migliori probabilmente non è sicuro ma probabilmente l'avremmo servito erroraccio erroraccio proprio è attenzione qui gliela diamo così ci giriamo e non ci rigiriamo però uh gliela tocchiamo gliela tocchiamo e ma solo per un secondo solo per un secondo finisce così ragazzi peccato abbiamo sprecato un doppio vantaggio con questo ragazzo ma guardate che uomini aveva purtroppo noi con le riserve di più non potevamo proprio fare peccato davvero ragazzi poi è stata una bellissima partita vi siete visti 6 gol migliori in campo per noi assolutamente molto divo se lo merita si è comportato veramente 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 bene e comunque ci portiamo a casa 500 crediti che schifo non ci fanno ragazzoli che schifo non ci fanno bene io spero che questo video vi sia piaciuto se così lasciate un like commentate condividete ma soprattutto iscrivetevi per vedere video nuovi ogni giorno vi ricordo che sono i live anche su twitch da lunedì a venerdì alle 21 e 30 grazie e alla prossima ciao